Eccoci qua ragazzi, come promesso ci facciamo questa penso ultima partita con il cacciatore di arena L'avevo iniziata senza pretese, l'avevo detto, perché non è che mi ha dato carte certe Però sfruttando un paio di combo delle carte sono riuscito ad arrivare a 7 Non ho molte spell, infatti non ci speravo ragazzi, però ci si è comportato bene il mazzo Via andiamo a vedere se riusciamo a fare l'ottava E vediamo un po' Allora Tolgo i segreti ragazzi perché ho due... Ho due... Scenziati pazzi Quindi preferisco toccarvi a gratis e a colmarlo Allora 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 Togliamoci da questa situazione un po' imbarazzante ragazzi Allora 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 Beh, ci ho avuto fortuna per quella carica Ma non è sicuro che la carica ma è detta Allora 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 A posto ragazzi Grazie per questa breve arena Ciao a tutti Allora